Li portiamo questi giochini giusto per spezzare un po' dalle solite cose, per portare un po' di freschezza e di divertimento Scusa, mi è venuto così Potresti fare la pubblicità delle cingomme Lo so, vedi, sarei perfetta Aspetta, tieni, vai, provaci Fresh Non mangio anche una per dimostrare Buona Buon sapore Buonissimo, ti pulisce tutti i denti, buonissimo Basta E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph, e che se giociamo a Bridge and Clean? Di cosa si tratta? Semplicemente un altro giochino molto molto simpatico che abbiamo trovato e deciso di portare sul canale Quale sarà il nostro obiettivo? Praticamente, si intuisce già dalla schermata iniziale Dovremmo pulire delle stanze d'albergo Che bello, che bel lavoro che dobbiamo fare Io non so perché mi diverte un sacco Non so perché mi fa ridere, mi diverte un sacco Scusa, come puoi vedere dall'orologio abbiamo un timer per fare il nostro lavoro Dovemmo essere veloci Allora È mollato tutto È perché dobbiamo entrare nelle stanze, scusate, scusi Questo è un cliente Ma avete fatto un... Ma è morto? No, no, no Perché ha buttato lì? Perché sta dormendo e tu non lo devi disturbare, capito? Devi pulire in silenzio senza farti notare Ma era capricciante però sta cosa Pulire, capito? Così, mentre dorme Comunque ha fatto un disastro La 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 Guarda, l'ischi di pesce buttate in terra Sei un incivile, guarda Io te lo dico Non si insultano i clienti No, sei un... No, vedi, c'è un po' notato Scusi, scusi, me ne vado subito Scusi, non lo dirò mai più Lei è un bravissimo cliente Vedi, anche qua Ne ero dimenticato Neanche tira la catenella Che cosa vergognosa È un po' maleducato Chiudi, chiudi, chiudi Arrivederci Arrivederci Ciao Continui a dormire Passi una bella giornata Sì, l'abbiamo fatto un po' raviare Dimmi Aspetta, come facciamo a non farci notare dei clienti? È molto difficile Eh, soprattutto se lì davanti Anche perché sai cosa era l'ultima cosa da fare? Sistemare il letto Ma ci stava dormendo lui sopra Probabilmente lo devi prendere Lanciato dalla finestra e fa il letto Non credo È un po' strano, è un po' strano Allora, dai È chiuso Non è la chiave? No Eh, lasciala stare No, no Devi pulirla Sai come si apre? Come? Con una cosa che tu vorresti fare nella vita reale Scassinare Meglio ancora Scassinare La cosa più terribile sai qual è stata? Aham Che quando tu mi hai detto qual è la cosa che vorresti fare di più nella vita Ti ho anche risposto senza pensarci Pensa a aprire una porta a un modo tuo Quindi ancora meglio dello scassinare A calci Ancora di più A pugni Di più A testate Di più Con uno strumento Con una spallata Uno strumento Con un carrello No Non ci arrivo allora Scusami, è troppo difficile Che cos'è? No Ma scusami, 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 scusami Un attimo Cioè noi dovremmo semplicemente far pulizie Perché stiamo facendo esplodere forte È un gioco un po' strano Mi sembra È un albergo un po' particolare Mi sembrava di averterlo già spiegato Aiuto Un'esplosione enorme Ma il cliente sta bene? Ma non c'è sempre il cliente a dormire Può capitare, capito? Quando capita è un po' più difficile Dai, dai, dai È normale come gioco, no? Devi soltanto far esplodere le cose Oltretutto fai le pulizie quando poverino il cliente è ancora Dorme Fai esplodere una porta di un albergo Cioè, è terribile Tutto è normale Allora, cosa manca? Hai notato qualcosa? Qualcosa per terra? Qualcosa che non va? Secondo me è qua in bagno Secondo me è il gabinetto Sì, vedi Perché ci sono due gabinetti? Non capisco È per due per due Non c'è altro, vero? Finito Andata 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 Praticamente Adesso chiudi Ascolta Io voglio il pollicione verde anche dall'altra Mi prendo coraggio Scusi di nuovo Scusi Scusi, non ho finito Come fai? Scusi Scusi Ci hanno licenziato Licenziati Comunque vedi Come fai a rifare il letto se c'è lui sopra? Questo è un bug Io do la colpa al bug Subito bug Neanche iniziato Sì, sì, sì Dai, riniziamo Io volevo il pollicione verde, guarda Uffa Non è stata colpa mia Mettila Tiro uomodinamite Sì Finito in modo esplosivo È la parte che preferisce No, è sbagliato Ti esplode il carrello Tutto a posto È andata È andata, ok Scusi, c'è il cliente? Mi scusi? Pensa se facciamo esplodere quando c'è il cliente dentro Poveraccio Si prenderà uno spavento incredibile Allora Guarda questo Arrugginito da quanto è sporco Capito? Scusi, è un po' È una persona un po' sporca, no? No, no, cioè Un po'? A qua invece ci sono due vasche da bagno Ma niente water In questa sembra che ci sia latte No, ma la pipì dove la fanno? Nella vasca da bagno Nella vasca, nella vasca Ecco perché sembrava latte Nella vasca Si spiega tutto Che succede? Stai mettendo musica? Sì, la puoi cambiare Sta partendo un party incredibile Dai, muoviti, muoviti a lavare Dai Questa stanza l'abbiamo completata Sì Sì, infatti non mi sembrava che ci fosse altro Chiudi Andata, andata Scusate Ok Adesso Non ci licenzieranno mai più, guarda Poi, allora Qua serviva il bel panno Però voglio vedere che altro manca Allora, i cestini sono fatti Dobbiamo soltanto pulire Contrere anche la carta igienica Che non sia da cambiare L'ho vista Mi sa che se c'è vuol dire che va bene Quando manca la devi aggiungere, capito? Ok, perfetto Perfetto Scusate Ah, non l'hai visto? Ah, l'hai vista la mela Nascosta Era nascosta Sì Ci stava per fregare La mela nascosta E mezzo alla sprecita Non ci frega nessuno Eh, penso che abbiamo finito Sì Sì, 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 guarda No, non c'è il pollice a neve Ah, sì Appena la butti Andata Dai, vedi, sta andando meglio Ci hanno riassunto Ha dato una seconda possibilità E sta andando molto meglio Perché non era colpa nostra Lo sapevano anche loro Hai notato comunque una cosa? Ahà Che in quasi tutte le stanze non c'è il letto Dove dormono? Non fare domande Nella vasca anche quello Allora, ci hanno dato una seconda chance Non facciamo domande È l'albergo del terrore questo Perché ci sono tutte cose stranissime Eh, lo so, però Vedi, dove dormono? Nella vasca? Cioè, o nelle potere Non trovavamo altro lavoro Eh, vabbè, dai, sì Mi sembra giusto Noi comportiamoci bene Allora Questo Uh Sono fanno schifissimo Mi era caduto addosso Non so se serve anche la carta igienica qua Allora, di sicuro dobbiamo cambiare l'asciugamanino Quindi ne prendiamo uno pulito Bellini Eh, questo sì che è bello L'asciugamano Bellini Da Ok, sì, vedi Quindi, fammi vedere un pochettino E dove si piazza la carta igienica? Proviamo Non lo so, non l'abbiamo mai visto Mmm, tipo No Prova dall'altra parte No, secondo me devi semplicemente tirare lo sciacquone Lo sai? Sì Sì, vero? Sì E stai lasciando la carta igienica in terra Sì, me la riporto a casa Ok No, vedi? Guarda dall'altra parte Sì, faccio No, non c'entra nulla Non lo so, non sto capendo Così, lasciamo così Lasciamo così Scusate Se no ci licenziano di nuovo Dobbiamo tornare indietro Corri Ah, quando scattaro l'alloggio devi tornare indietro All'ascensore Non lo sapevo sta cosa, mio Dio Non puoi raggiungere la cosa rossa, capito? Ok, ok, ok Buongiorno Salve Aiuto Ci stava aspettando Allora, da questo come facciamo a non farci accorgere? Scusami che è lì Scusi Allora, secondo me abbiamo qualcosa da dargli Tipo Ah, dici di distrarlo? Sì, un rotolo No, secondo me stai più veloce, capito? E fregartene, capito? Sì, 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 sì Lui ti guarda male Allora, controlliamo qua cosa tutto c'è da fare Dobbiamo fare meno passaggi possibili Ok Vedi, qua c'è il coso per la cartigienica Ah, allora sì Allora no Non so cosa potesse essere Guarda, sinceramente ti dico la verità Ah, vabbè, ma ha fatto una schifezza in questa stanza Ha combinato un disastro Dovrebbe essere mandato via dall'albergo Perché Corri Corri Così Corri Corri Ci licenziano, vero? Ci licenziano, ma lo sento E se noi lasciamo così Andiamo in un'altra stanza e poi torniamo Perché l'altra volta ti corri che si era calmato comunque Sì, allora facciamolo calmare Tanto manca solo quella lisca di pesce, mi pare Ho visto una lisca di pesce No, dobbiamo anche cambiare la cartigienica Eh, Bob, ma quante cose da fare Proprio nella stanza dove c'è il cliente che ci fissa Scusi La lisca di pesce Ok, devo appoggiare questo Bravo, bravo, bravo Lisca Scusi Scusi Ti sembra, mangi il pesce e lo butti in terra Mi sembra normale, no? Siete dei clienti incivili Eh, io non riesco No Lisca Allora, concentrato Concentrato, stai sbagliato Non riesco a riprenderla Butta la scappa da qualche parte Quando si Ok, ok Beh Complimenti, complimenti Stavo nervosendo Allora, sugar money Appoggio qua un attimo Buttiamo questo Bisogna velocizzarci perché Sì, bisogna fare meno passaggi possibili Dobbiamo essere veloci Su, su, su È lavoro di una vita La cartigienica c'è A posto Poi l'isone verde andiamo alla prossima stanza Chiudi Andiamo Permesso Prendi questo Ok, allora Permesso Pulire Altro? No Oh, aiuto Guarda che mi fanno troppo paura Ma sei matto Addirittura nella vasca alla bagno Cioè, tutti aspetti che non ci siete Lo trovi facendo tutti il bagno E' una cosa E li dobbiamo levare l'altra Se tutti stiamo facendo il Sì Il bagno Oh, parla Oh, poverino No, ma non è finito Che manca? Cosa altro manca? Controlla in bagno Secondo me il bagno Secondo me c'è qualcosa che ci sugge ogni volta Secondo me il bagno Ah, ecco Asciugamani Scusi Scusi Facciamo velocissimi Non vogliamo vederla senza vestiti Ci dispiace Pensa se sei in un albergo Ti stai facendo il bagno E ti arriva quello che ti pulisce le cose E ti toglie pure l'acqua dalla vasca Signore, non abbiamo fatto nulla Non l'abbiamo vista senza vestiti Comunque è terribile Cioè, levare l'acqua dalla vasca No, vabbè Anche questo Facendo il bagno E' sempre più difficile Ma l'hai vista quante cose ci sono da fare? Subito? Perché era nel letto Ci hanno dato subito Comunque ragazzi Ci fermiamo così per questo video Fateci sapere nei commenti Se il video vi è piaciuto Ovviamente sarà anche questo Un singolo video Li portiamo questi giochini Giusto per spezzare un po' Dalle solite cose Per portare un po' di freschezza E di divertimento Scusa, mi è venuto così Potresti fare la pubblicità delle cingomme Lo so, vedi Sarei perfetta Aspetta, tieni Vai, provaci Fresh Non mangio anche una Per dimostrare Buona Buona Buon sapore Buonissimo Ti pulisce tutti i denti Buonissimo Basta Spero che ti piace così Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!